Non ha prodotto danni alle persone, ma solo tanto spavento. Le raffiche di vento, che hanno caratterizzato la domenica appena andata in archivio, hanno portato però numerosi danni materiali. Particolarmente colpita la città di Corato, dove gli uomini della polizia locale, dei vigili del fuoco, gli addetti dell'Asipu e anche gli istituti di vigilanza privata hanno lavorato tutta la notte per rimuovere i pericoli creati dalle forti raffiche. Ha seguito tutti i lavori di messa in sicurezza il sindaco di Corato, Massimo Mazzilli, sul cui profilo Facebook, sono state pubblicate queste impressionanti immagini. Un ripetitore della Wind è letteralmente crollato in via San Silvestro, alcuni cartelli pubblicitari sono stati piegati e solo per fortuna nessun veicolo transitava sul viadotto di via Ruvo in quel momento. I pini abbattuti dal vento in via Bracco hanno anche buttato giù le linee telefoniche telecom. In diversi luoghi è stato necessario, oltre all'intervento dei vigili del fuoco e degli addetti Asipu, anche l'utilizzo di mezzi pesanti. Nei pressi della scuola Fornelli, ad esempio, è stato necessario abbattere un palo dell'illuminazione. Qualche pericolo lo hanno corso i presenti perché appena sfiorato dal mezzo che avrebbe dovuto abbatterlo, il palo è caduto violentamente al suolo. La prefettura sta monitorando la situazione. Lo stato di allerta dovrebbe rientrare già dalle prossime ore.